Il testo si basa su singoli casi per attaccare politicamente la regione utilizzando espressioni inappropriate. Si parla di contesto di legalità diffusa, di controlli insufficienti e di carenze sanzionatorie di cui costituisce la cartina di tornasole la vicenda di un dirigente regionale. Cioè si è impiegato un tono dispregiativo per descrivere la vicenda certamente grave ma isolata e sulla quale, caro collega Indrizzi, il Presidente Zai ha da subito collaborato con la Procura della Repubblica di un funzionario per rappresentare la regione Veneto come contesto di illegalità diffusa. Oh, ma stiamo parlando veramente della regione Veneto in questa relazione? Oppure della Sicilia, della Calabria o della Campania? Si avanzano poi affermazioni di influenza dell'organo politico sulle valutazioni ambientali degli impianti e si elencano le distorsioni e le illusioni delle norme che normalmente avvengono sul mercato presentandole come il vero problema del Veneto. E in merito alla vicenda Miteni e sull'inquinamento dei FAS, caro collega Indrizzi, informati e scoprirai che in assenza dei limiti tabellari che lo Stato non ha imposto, la regione ha avuto in merito un approccio al problema che è stato molto apprezzato. Grazie a tutti.